Allora, prima di tutto grazie all'azienda ospedaliera e universitaria di Motena e al dottor Triani per avermi invitato qua. Oltretutto sono particolarmente felice perché dopo gli interventi di stamane che hanno sottolineato la pericolosità del fumo e quindi hanno messo un grosso peso sulle nostre spalle e l'intervento, due interventi fa, purtroppo non ricordo il nome della dottoressa, potrei andarlo a cercare, che ci ha fatto capire che noi donne siamo sul vetrino di questo microscopio che ci guarda delle multinazionali del tabacco. Io sono qua a dirvi che si può smettere ed è anche facile. Allora, la mia credenziale per essere qui è che oltre ad essere una donna ed una madre, sono stata una fumatrice per 21 anni, ho smesso di fumare 22 anni fa e da 12 anni mi occupo di tabagismo. La mia storia di fumatrice è pressoché identica a quella di tutti gli altri fumatori. Un tiro in età adolescenziale che si trasforma 21 anni dopo a 40 sigarette al giorno. 21 anni contrassegnati da numerosi e svariati tentativi di smettere, che duravano al massimo sei giorni, e il cui fallimento ogni volta zerava la mia già esile e autostima. 21 anni cercando di controllare qualcosa che sapevo che in fondo stava controllando me. 21 anni di bugie, smetto quando voglio. Hai fumato? No, no, assolutamente. Sento odore di fumo. Eh, belli amici. 21 anni uscendo a tarda notte per cercare il tabaccaio ancora aperto. 21 anni chiudendo gli occhi e le orecchie davanti a mio padre, che passava da un ospedale all'altro, soffocato dall'enfisema polmonare e dalla bronchite cronica. 21 anni sperando di svegliarmi una mattina senza più la voglia di fumare. Nell'88, vivevo a Londra all'epoca, incontrai una signora che mi dia del biglietto da visita di un certo Alan Carr. Aiutava la gente a smettere. Anche suo marito aveva smesso con lui. Ma cosa fa? Guardi che io ho provato proprio tutto, eh, orecchini, chewing gum, sigarette alle erbe. E niente ha funzionato. No, no, chiacchiera, chiacchiera. E oltretutto se non si riesce restituisce anche i soldi. E le risposi, guardi che ho provato anche l'ipnosi, non ha funzionato. No, no, chiacchiera, come stiamo facendo io e lei in questo momento. Incuriosita, scettica, speranzosa e terrorizzata, il 15 agosto dell'88, mi presentai alla porta di questo signor Carr. Ed eccomi qua, ora. Uscì alla fine del pomeriggio in uno stato di trepida esaltazione. Che cosa fece? Nulla. Non ho dimenticato di dirvi. Semplicemente parlò, mentre io, con altre sei o sette tra fumatori e fumatrici, lo ascoltavamo fumando. Stavo dicendo che uscì alla fine del pomeriggio in uno stato di trepida esaltazione. Che divenne in breve tempo la profonda convinzione che sì, ce l'avevo fatta. Ero finalmente libera. Ricordo che a volte, felicemente stupita, tempo dopo, mi ritrovo a conversare con me stessa, mentalmente. E mi dicevo, ma veramente non fumi più? No, non fumo più. E questo a poco a poco si trasformò in una gioia incredibile. Che incominciò ad accompagnarmi. E mi condusse a decidere dieci anni dopo di portare in Italia lo stesso seminario che aveva aiutato me. Ma cosa era accaduto in quel pomeriggio, di diverso dalle altre volte? Cosa aveva trasformato il mio smettere di fumare dalla solita, deprimente esperienza in quello stato di continuo entusiasmo. che provo anche in questo momento mentre vi sto parlando. Cioè, in cosa consiste il metodo Easy Way, ideato dal signor Cara? Avrei bisogno di un pomeriggio per spiegarvelo e quindi non l'abbiamo. Ma incomincio col dirvi molto semplicemente che è il metodo di un fumatore per smettere di fumare. L'aver fumato per oltre 30 anni aveva permesso al signor Cara che di professione faceva il commercialista di vivere in prima persona il problema del fumo e di risolverlo quindi con cognizione di causa. La sua illuminante intuizione fu quella di spostare l'attenzione dal non devo farlo perché mi ammazza al, se vogliamo, più contabile perché lo faccio? Cosa ne ottengo? Dopo un'attenta disamina era arrivato a smantellare tutte le valenze positive che si attribuiscono alla sigaretta. È un piacere, è un aiuto, è una stampella, è un amico aiuta a concentrarmi, allevia la noia. Aveva capito che era tutto un'illusione come il mago di Oz. Nulla era vero, ma anzi era vero esattamente il contrario. Il fumo è in realtà fonte di stress e noia e impedisce il rilassamento e la concentrazione. Smascherata la sigaretta crollava il desiderio di fumare perché in realtà i sintomi prettamente fisici da stinenza, da nicotina, sono brevi e leggerissimi. Senza desiderio di fumare viene meno anche il bisogno di usare la forza di volontà per non farlo. E crolla anche l'ultimo e più importante legame che incatena il fumatore alla sigaretta. La paura. La paura di perdere l'amico, la stampella, l'aiuto. Nell'85, cioè due anni dopo aver ideato Easyway Allen decise di mettere il suo metodo nato appunto come seminario in un libro che in Italia ha il titolo di è facile smettere di fumare se sai come farlo. Questo libro, che forse qualcuno di voi conosce ha venduto col puro passaparola 12 milioni di copie nel mondo e più di un milione in Italia. La validità del metodo non ha barriere di genere. I motivi per cui si inizia a fumare si continua a farlo e si trova difficile smettere sono uguali sia per le donne che per gli uomini. E la soluzione è la stessa. Si inizia per emulazione per condizionamenti culturali e sociali. Vogliamo far parte del gruppo seguiamo certi modelli vogliamo essere trasgressivi. Si continua perché diventa una dipendenza vestita a festa da decenni e decenni di mistificazioni e che noi stessi vestiamo con giustificazioni piccole e grandi menzogne errate e certezze che ci convincono di essere incompleti. Troviamo difficile smettere perché affrontiamo il problema in modo incorretto continuando cioè in qualche modo a pensare non devo, non posso farlo mentre l'atteggiamento mentale che ci libera realmente è non voglio più farlo perché non mi interessa più. Detto questo cioè che il problema e soluzione sono gli stessi per uomini e donne quest'ultime hanno in qualche modo un rapporto più sfaccettato col fumo ed è questo particolare rapporto che portò il signor Cara ad un'altra stesura del suo libro indirizzata proprio alle donne. Le donne hanno in qualche modo più paura degli uomini di smettere di fumare perché i motivi sono di diversa natura. Cito il signor Cara per una fumatrice le sigarette fanno parte del suo sistema di sostegno psicologico rappresentano una parte integrante della sua vita e paiono inestricabilmente legate all'immagine che ha di se stessa. Questo è particolarmente vero per chi si preoccupa del proprio peso e della propria immagine ovvero la maggior parte delle donne. L'industria del tabacco ha ben compreso questo contesto sfaccettato ed ha speso e continua a spendere miliardi di dollari per dilineare profili psicologici femminili e fa di tutto per penetrare all'interno della testa delle donne per capire come queste ultime vedono le cose come pensino e come si differenzino psicologicamente dagli uomini. Vi sono stati enormi cambiamenti nella vita delle donne soprattutto negli ultimi 50 anni e la stessa industria del tabacco ha avuto il suo peso in questi mutamenti come l'hanno avuto le mutate condizioni di vita e non ultimi i cambiamenti nelle donne stesse. La rivoluzione sociale iniziata negli anni 60 ha creato una macchina da soldi per queste industrie che se da un lato vedevano e vedono un settore del loro mercato stazionario o in leggera flessione quello maschile ne vedono un altro in crescita quello delle fumatrici soprattutto donne e giovani. Aiutate dalle tremende pressioni esercitate anche dal marketing di industrie che hanno a cuore non altro interesse se non quello dei loro azionisti noi donne per provare la nostra emancipazione a noi stesse e al mondo abbiamo finito per adottare e diventare schiave di quelli che abbiamo stoltamente ritenuto simboli di forza e libertà il fumo e l'alcol. Le industrie del tabacco erano attente alle donne però già negli anni 20 la pubblicità delle Lucky Strike per prima aveva collegato il fumare con il controllo del peso invitando le donne a prendere una Lucky invece di un dolce negli anni 60 la Philip Morris introdusse le Virginia Slims la prima marca creata appositamente per le donne e la lanciò con uno slogan che faceva riferimento al movimento femminista e diceva You have come a long way babe hai fatto molta strada bambina le Virginia Slims arrivano ora in una confezione che ricorda il contenitore di un fard di un rossetto sono eleganti raffinati sottili il filtro limitato da una linea d'argento sembrano di seta la scritta è d'argento evocano matahari ma nulla è casuale sono raffinate mortali e esche mentre scrivo mi rendo conto dei cambiamenti avvenuti anche nella più nostrana percezione del fumo quando iniziai a fumare ricordo che l'enfasi era più sulla trasgressione quasi maschile io fumavo la marca dei cowboys arrivai anche per un po' di tempo a quelle marche francesi tremende e usavo uno zippo per accendere le mie 40 sigarette le Virginia Slims mi avrebbero fatto ridere oggi i collegamenti che imprigionano le donne sono quelli tra fumo e moda stile lusso sesso fascino insieme ai classici allevi allo stress è una compagnia e permette di non ingrassare osservate come il mondo della moda sia diventato un canale pubblicitario per il fumo ma che tremendo scotto paghiamo noi donne le madri fumatrici ancor più dei padri si struggono all'idea di essere di cattivo esempio ai propri figli e nipoti fu proprio la nascita di mio figlio che mi portò a cercare l'aiuto di Alan Carr e se poi si continua a fumare in gravidanza come feci io il senso di colpa ci cammina di fianco per sempre e nel fondo della mente c'è sempre un punto di domanda e se dovesse sviluppare qualche malattia come farò ad essere certa che non è a causa mia ma come accade per tutti i rompicapo anche il più complesso una volta che se ne capisce la soluzione il gioco è fatto 22 anni dopo io che non sono stata in grado di smettere quando aspettavo mio figlio io che ho fumato durante degenze ospedaliere io che ho visto mio padre morire a causa del fumo io che non riuscivo a stare mezz'ora senza fumare sono qua a parlare a voi di come smettere di fumare in questi anni ho aiutato personalmente centinaia di donne a smettere di fumare con la traduzione del libro e la sua pubblicazione ho contribuito affinché decine di migliaia di donne smettessero di fumare e se ce l'ho fatta io che sono nessuno qualunque fumatrice ce la può fare viviamo in un mondo dove non si può più aspettare che le cose cambino ma come dice il Mahatma Gandhi siate il cambiamento che volete vedere avvenire nel mondo e vorrei chiudere con un pensiero di Stilv Biko un attivista del movimento contro la segregazione razziale ucciso in Sudafrica nel 1977 all'età di 31 anni l'arma più potente nelle mani dell'oppressore è la mente dell'oppresso grazie e siccome ho un figlio di 23 anni sono molto attenta ai giovani quindi abbiamo deciso di stampare questo libretto che è fondamentalmente un sunto del classico diciamo e lo trovate gratuito nella settimana del 31 maggio nelle librerie del Libraccio e di Mailbook Store i primi 100 studenti che arrivano l'avranno in omaggio ok